Il Movimento 5 Stelle a tre mestieri etneo con il suo consigliere comunale Domenico Di Guardo ha protocollato una richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale Ferdinando Smecca di emendamento al bilancio di previsione che sarà discusso in aula questa sera. La proposta è quella di inserire quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 5 del 2014 il quale fa obbligo di spendere almeno il 2% delle somme trasferite in forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. La somma nel caso di tre mestieri etneo dovrebbe ammontare a circa 14.000 euro annui da destinare a progetti o proposte scelte votate direttamente dai cittadini. Nel dettaglio l'emendamento chiede di spendere il 2% delle somme trasferite dalla regione al comune di Tre Mestieri etneo come partecipazione al gettito IRPEF coinvolgendo la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune mettendo in essere forme di democrazia partecipata se non presente inserire e prevedere apposito capitolo e questa la richiesta che fanno i grillini al Presidente del Consiglio.